Noi siamo partiti come scopo principale di differenziarci con la carne dal gusto, però abbiamo capito che la base principale era come noi lavoravamo in campagna. Siamo responsabili per il futuro del pianeta, quindi come imprese e imprenditori di questa filiera dobbiamo lavorare affinché di creare un'economia sostenibile. E' importante quello che vediamo sopra, ma è ancora più importante quello che esiste sotto il terreno, quindi i microrganismi che hanno una funzione di assoluta vitalità per la fertilità dei suoli. La microrizzazione permette, grazie al suo processo naturale, la maggior assimilazione della componente organica naturale con la pianta. Bisogna avere il coraggio di eliminare la lotta del prezzo, bisogna avere il coraggio di dire io non voglio competere sul prezzo, ma devo competere sui valori. Una cosa di cui vado fiero essendo presidente è il prezzo fisso, noi questa cosa qua siamo partiti ormai dal 1996 che abbiamo un prezzo fisso concordato da inizio anno con gli allevatori. Dobbiamo partire da un prezzo del prodotto latte conosciuto, trasparente che possa remunerare l'allevatore in modo che lui possa investire in sostenibilità, se invece tu cerchi solo di pagarlo il meno possibile, lui non ha le risorse per investire in sostenibilità. Che non è facile stare dentro il nostro consorzio, perché quando tu imponi la microrizzazione vuol dire che sono già dei costi in più che tu hai. Abbiamo deciso di non fare questa discriminante delle fasce di quantità, perché la fasce di quantità prevede che io pago un po' di più il latte il più grande e un po' di meno il più piccolo. Per mantenere queste stalle montagne, diversi malgari per esempio ci danno il latte nel periodo invernale, nel periodo inestito naturalmente sono sulla Marghe, si fanno il formaggio, lo vendono ai turisti lì, nel periodo invernale ci danno il latte. La regola principale che noi ci eravamo messi come consorzio era quello di accettare aziende linea vacca vitello, cioè che avessero le fattrici e di conseguenza allevassero i vitelli che queste fattrici parturivano. Miglioramento della filiera che oggi ha portato ad avere il 78% delle stalle che usano energie rinnovabili. Adesso abbiamo aderito un PSR sulla lotta integrata, quindi noi dovevamo seguire delle linee rigide sulla concimazione, sul diserbo del mais, rotazioni culturali. Abbiamo messo una grossa premialità di filiera, 5 centesimi, uno si pensa che il prezzo del latte è 40 centesimi, quindi superiore al 10%. Noi che abbiamo la piemontese in generale, quindi siamo più abituati a fare la rotazione culturale, abbiamo nemmeno dispersione di CO2 nell'aria, di conseguenza già solo questo passaggio naturale permette un minore impatto ambientale. In questo momento ci sono 104 punti dove abbiamo detto che si tiene conto del benessere animale, della sostenibilità ambientale, dei diritti umani, della salubrità della stalla e in base a come rispettano questi 104 punti questo 12-13% di premialità verrà remunerato. La comunicazione non deve essere solo marketing, ma deve anche essere qualcosa che racconti quello che di concreto viene fatto. Purtroppo noi come individui siamo portati a vedere solo la superficie, a non conoscere quello che c'è dietro al lavoro. Abbiamo due auditor che vanno e ogni anno guardano i progressi fatti. Tante volte ti trovi con delle aziende, secondo me con delle potenzialità enormi che non se la sentono. Gli uomini si credono molto nell'altro, sono molto altruisti, però se sono un po' incentivati funziona meglio.